Marina di Lizzano Taranto, canale di Ostone. Più di qualcosa stranamente non quadra. Guardate queste immagini. È una cloaca a cielo aperto. Il canale riversa la fogna in mare. Eppure, cosa davvero incredibile, Goletta Verde ha analizzato non queste acque all'interno del canale, ma quelle di fianco, e le ha definite di ottima qualità. Che assurdità! L'ex sindaco di Lizzano, avvocato Dario Macripò, giustamente osserva. Con la mia amministrazione, Goletta Verde analizzava scrupolosamente le acque del canale Ostone, qualificandole come altamente inquinate. Ora invece i controlli vengono realizzati lateralmente al canale e le acque risultano incontaminate. Non sappiamo se ci sia da ridere o da piangere. Certo che questa amministrazione comunale, targata Doria, è davvero fortunata. C'è una cloaca a cielo aperto, ma Goletta Verde evidentemente finge di non vederla. Ora l'amministrazione comunale di Lizzano, con il suo sindaco Antonietta Doria e con il vice sindaco Valerio Morelli, minimizzano l'accaduto e affermano. Questo fenomeno si ripete periodicamente sul territorio perché è causato dalla modifica morfologica della fonte che trattiene in una zona acqua stagnante, la quale nel momento in cui viene smossa la terra che la contiene, si riversa in mare. Caro sindaco e caro vice sindaco, come siete diventati moderati? Ricordo che in passato, e in particolar modo durante la campagna elettorale, facevate ferro e fuoco contro l'inquinamento. Avrei voluto ora questa stessa vehemenza e soprattutto l'avrebbero voluta i lizzanesi. Ma evidentemente non è così, ma si sa, pantarei, dicevano i greci, tutto scorre e purtroppo anche la fogna a mare.